Ciao a tutti, oggi faremo vedere come montare gli albumi a neve. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa cinque minuti. L'unico ingrediente sono gli albumi dell'uovo. E' importante che per montare gli albumi che il boccale sia perfettamente pulito e asciugato e che non vi siano residui di cibo. Che anche la farfalla sia perfettamente pulita e asciugata e che non vi siano residui di cibo e che negli albumi non vi siano tracce di rosso d'uovo e che siano a temperatura ambiente. Diamo il via alla ricetta. Posizioniamo la farfalla all'interno del boccale. Andiamo a versare gli albumi e li andiamo a montare per 4 minuti a velocità tre e mezzo. I nostri albumi sono perfettamente montati. Albumi d'uovo montati a neve. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.